Musica Buonasera e ben ritrovati con l'edizione serale del nostro TG Sport. In apertura vogliamo fare gli auguri alla piccola Alisia Scarnata che oggi festeggia il suo secondo compleanno. Ad Alisia, ai genitori Antonella e Domenico, quest'ultimo patron della Chaminade e titolare dell'impresa edile Scarnata Costruzioni, alle sorelline Emilia e Carol, ai nonni Angelo e Angela Scarnata e Antonio ed Emilia Libera Nome, vanno gli auguri più sinceri ed affettuosi da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise con la speranza di poter festeggiare il prima possibile. In campo anche Pineto Matese. A proposito della squadra di Corrado Urbano, vediamo il servizio. Il Pineto esce alla distanza, sfrutta la qualità della panchina e con un gran finale di partita si impone 2-0 sul Matese e interrompe a 16 la striscia di risultati utili consecutivi dei campani. Pomante riparte dal 3-4-3 con tre novità rispetto alla partita vinta con Rieti. Ci sono Pepe, Baldinini e Sernaz al posto di Bertolo Spolificato, Esposito e Minincleri che vanno in panchina. Nel 4-4-2 di Urbano ci sono i rientri di Cassese e Iannetta al posto di Buonocore e Setola. Il Pineto parte forte, già dopo 40 secondi sfiora il vantaggio, percussione centrale di Sernaz che serve Romano il cui diagonale scheggia la base del palo. Ancora Pineto al decimo con la punizione di Minnozzi che finisce non lontano dalla porta di Palombo. Il Matese non resta a guardare, anzi al quarto d'ora c'è il primo squillo delle parti di Mercorelli quando Barone pesca sul secondo palo a Dusa che di testa spreca. Proprio a Dusa è molto attivo sulla destra, dopo un paio di minuti il Ghanese pesca in area Abreu che gira sopra la traversa. Si gioca a buon ritmo, la partita è godibile e il Pineto si rivede con pericolosità. Alla mezz'ora Albanese sfiora il cross di D della Quercia, sbuca Sernaz che di petto non riesce a impattare felicemente. Venenosa al 42esimo la punizione di Langellotti che passa tra una selva di gambe, ma Mercorelli è sicuro. Nella ripresa gara incanalata sull'equilibrio e che si fa più bloccata, così Pomante cerca forze fresche dalla panchina. Al dodicesimo dentro Esposito e Minincleri, i due gole ad ora antirieti, fuori Baldinini e Sernaz. Ma la prima azione saliente del secondo tempo, al quarto d'ora, è della compagine Matesina quando il capitano Albanese svetta sugli sviluppi di un angolo. Ancora Matesi al ventesimo quando Galesio anticipa tutti e incorne le traversone di Barone. L'occasionissima invece arriva per il Pineto. Un minuto dopo Minincleri appoggia per Minnozzi, la cui botta mette in imbarazzo Palombo che devia sulla traversa. Il portiere si riscatta subito, neutralizzando il tapin di Minincleri e subendo una carica sul secondo tentativo del giocatore pinetese. Pomante si gioca anche la carta Cercelluti per Romano ed il neoentrato lavora un buon pallone per Minnozzi, il quale cincischia per poi aprire per Della Quercia, il quale conclude alto. Urbano nota una lieve flessione e opta per il primo cambio al trentunesimo, Riccio per Abreu, ma il finale di partita del Pineto è impetuoso e passa ancora per il talento di Simone Minincleri che al trentaquattresimo avanza e dai venti metri fa partire un sinistro che stavolta non lascia scampo a Palombo. Terzo gol consecutivo per l'ex Aquilano. Si sblocca la partita e crollano le convinzioni matesine. Il Pineto ne approfitta e un minuto dopo sferra il secondo colpo letale agli avversari. Maglie del Matese e Larche, un invito a nozze per la progressione di Cercelluti che fa tutto la perfezione e chiude la contesa. Una vittoria che consente al Pineto di uscire dalla zona playoff con un ritmo notevole. 14 punti nelle ultime sei partite per il Matese, un K.O. che non scalfisce l'ottima stagione fin qui disputata. A proposito della sfida del vertice della classifica, il Campobasso ha chiesto la rimodulazione dei recuperi per giocare in contemporanea con la sua antagonista Notaresco e il servizio. La società del Campobasso è soddisfatta rispetto all'annullamento del recupero contro il Pineto fissato in un primo momento per mercoledì 28. Era stata la stessa dirigenza a pretendere che si giocasse in contemporanea con il Notaresco. Un appello che abbiamo rivolto anche noi nel corso della puntata scorsa di Domenica Sport. Non hanno subito variazioni le partite degli abruzzesi che rimangono fissate ad oggi, a domenica 2 a mercoledì 5 maggio, prima contro il Pineto, poi contro il Monte Giorgio. Si presume, con grande probabilità, che il Campobasso debba scendere in campo negli stessi giorni. Appresa la notizia che ad oggi però manca di una ufficialità, Cudini ha deciso di concedere ai suoi un periodo abbastanza lungo di riposo. La squadra infatti si ritroverà domani pomeriggio alle ore 16 per la ripresa dei lavori, tutti nelle loro case, tranne Brenci che è rimasto nel capoluogo per continuare il lavoro fisico in vista di un recupero completo che non dovrebbe essere così lontano. Quattro giorni per smaltire le tossine dopo un periodo di impegni ravvicinati con ben tre turni infrasettimanali distribuiti in due mesi da febbraio ad aprile. In realtà però uno non è stato ancora giocato dal Campobasso, esattamente quello di Vasto Girardi. Per molti commentatori del Girone F, i recuperi prossimi dei Rossoblu e del Notaresco saranno l'ago della bilancia che può far pendere il campionato da una parte o dall'altra, in Molise o in Abruzzo. È un parere rispettabile, come quello di chi ritiene che anche dopo i recuperi la lotta possa comunque rimanere molto aperta. La sensazione è che la guerra per il primato davvero possa dare un responso nelle ultime giornate di campionato. Soltanto un anno calcistico fa il Notaresco comandava la classifica del Girone F, salvo poi passare secondo dopo una sconfitta interna contro la Vastese. Siamo vicini alla soia delle otto partite di campionato residue, cioè allo stesso momento in cui il torneo fu interrotto un anno solare fa a causa dell'emergenza sanitaria. Rispetto a quanto filtrato dopo l'ultima conferenza stampa del Premier Draghi, c'è stato un dietrofront da parte del Comitato Tecnico Scientifico rispetto alla presenza di pubblico negli stadi. Tale possibilità, inizialmente prevista per il primo maggio, è stata posticipata esattamente di un mese. Dunque, a proposito della quarta serie che terminerà il 13 giugno, ci potrebbero essere i mille allo stadio, cioè il 25% della capienza dell'impianto, soltanto negli sgoccioli del torneo. Mille spettatori all'aperto e 500 al chiuso. Questa sarà una delle norme del nuovo decreto legge Covid che entrerà in vigore dal prossimo 26 aprile. Nel nostro piccolo c'era stata una speranza di più di un tifoso rosso-blu di tornare allo stadio per vivere le gare interne residue di campionato. Secondo questa rettifica sarà possibile solo dal primo giugno, cioè per una sola gara interna del Campobasso, a ridosso della fine del torneo. Buone notizie dall'Alto Molise per il vasto Girardi. Dopo 11 giorni di sospensione degli allenamenti e di totale isolamento da parte del gruppo, la squadra può tornare ad allenarsi. Gli essiti negativi dei tamponi molecolari, effettuati in tre diversi momenti, ultimo di controllo lunedì scorso, hanno fatto registrare la negativizzazione dei tesserati. A proposito sempre degli altomolisani, Filippo Fraraccio è stato inserito nell'elenco stilato proprio dalla LND come tra i migliori talenti del campionato. Per quanto riguarda l'Olimpia agnionese, la squadra si prepara a tornare in campo domenica, quando viaggerà alla volta di Porto Sant'Elpidio e mercoledì in casa contro il Pineto. Per quanto riguarda il notaresco, domenica gli abruzzesi hanno faticato nella sfida di Piedimonte-Matese, ma allo scadere hanno conquistato un punto importantissimo. Nel post-gare il commento di Speranza. Vediamo. Ivan Speranza, capitano del notaresco, commentiamo questo pareggio qui sul campo dell'FC Matese, imbattuta davvero da diversi turni. È stata una vera e propria battaglia. Siete passati in svantaggio su un episodio, ma bravi a non perdere la testa, a lottare, ad ottenere questo pareggio in extremis. Sì, sapevamo che era dura qui, su un campo comunque stretto, sintetico, e noi sapevamo che l'avevamo preparato questa partita. Purtroppo siamo passati in svantaggio, come hai detto tu, su un rigore. Molto dubbio, secondo me, però nel calcio ci sta. Come hai detto tu, siamo stati bravi comunque a non perdere la testa, a cercare di creare pericoli e siamo riusciti proprio all'ultimo respiro a pareggiare questa partita. Comunque in un campo, come hai detto tu, ripeto, difficile. Sì, assenza di Banegas, che vi ha condizionato un po', soprattutto in campi come questo. Banegas è un giocatore importante, però tutti i ragazzi stanno facendo bene dal più grande al più piccolo. Siamo un mister a piena fiducia in tutti. Siamo un bel gruppo che ci aiutiamo e anche in questo caso i ragazzi hanno cercato di sostituire al meglio Banegas. La lotta al vertice resta ora più che mai aperta. Avete perso entrambi gli scontri diretti, ma avete soltanto due lunghezze di ritardo. Questo significa che comunque avete quasi fatto meglio del campo basso, che da questa giornata ha guadagnato soltanto un turno. Come hai detto tu, togliendo gli scontri diretti, abbiamo fatto meglio noi in campionato, a livello di punti. Siamo là, siamo a due punti, dobbiamo crederci, fino alla fine, ci allontiamo fino alla fine. Purtroppo oggi magari abbiamo perso un'occasione per agguantarli, ma era un campo difficile qui e ci prendiamo questo pareggio che comunque non era facile riacciuffarlo. Ci siamo riusciti, quindi lotteremo fino alla fine. Parliamo ora di bocce. Torna l'appuntamento con la bocciofila frosolonese. Domenica in programma il torneo San Giuseppe, terzo memore al Filippo Colaneri. La gara individuale regionale conta più di 90 iscritti e avrà inizio alle ore 9. Come sempre, per la fase di qualificazione verranno coinvolti tutti i campi molisani, mentre la finalissima è in programma al bocciotemo di Frosolone. Futsal di Serie A2. Nel recupero di ieri, il Giovinazzo ha vinto 4-1 in casa del Cus Molise. Il servizio. Alla palestra a Suzzo, il CLN Cus Molise ospita il Giovinazzo in un match di recupero della tredicesima giornata. Cussini è nel campo per dimenticare Napoli e consolidare la terza posizione in classifica. Pugliesi per un risultato di vestigio già sicuro del nono posto finale. Arbitano Sallese, Di Vasto e Rutolo di Chieti. San Gennaro parte con Vinisius, Turek, Zancanaro, Barichello e Triglia. Out per l'infortuno di Betio. Partono meglio gli ospiti. Terzo minuto. Palo di Restaino dopo un gran tiro da posizione defilata. Minuto sette risponde il Cus. Botta di Turek col destro, para di Capua. Si arriva all'undicesimo. Gli ospiti la sbloccano con Alves che addomestica bene il palone e di punta fulmina Vinisius. Minuto 23. Ancora un legno per gli ospiti dopo un'azione solitaria di Rosselli. Si libera col destro e calcia sul palo. Cus in difficoltà. Venticinquesimo. Voleti sinistro di Restaino. Fuori di poco. Brivido per il Cus. Ma al ventisettesimo arriva il raddoppio Giovinazzo. Lancio lungo su Alves. Controlla sull'auto di sinistra. Vinisius esce male. Calcola male l'uscita. Dalves vede a rimorchio Pablo lo serve. Piatto sinistro e palla sotto la travessa. A porta vuota. 2-0 Giovinazzo. Finisce qui il primo tempo. Con le immagini di Alberto Petrundi passiamo la ripresa. Questa volta parte meglio il Cus. E già al quinto torna in partita. Condiliso bravo a liberarsi sull'auto di sinistra. Bene col sinistro in fila di Capua. 2-1 Giovinazzo. Partitare aperta. Il Cus prende fiducia. Minuto numero 10. Dribbling di Triglia. Tiroforte ma impreciso. Diciassettesimo si fa vedere Zancanaro. Grandesto ma di Capua ci mette la faccia e respinge. Si arriva al ventunesimo. Controvede Biancoverde guidato da Restaino. 2-1 Palla a Roselli. Piatto destro e gol. 3-1 Giovinazzo. Gol questo che taglia le gambe ai Custini. Sanginario si gioca la carta del gioco a 5. Solo al 35esimo registriamo questo incrocio colpito da Zancanaro col pallone che poi non viene corretto in rete. Match chiuso al 38esimo. Palla persa a metà campo. E per restare in un gioco da ragazzi c'entra la porta e fin mai le 4-1 finale. Vince meritatamente il Giovinazzo che si porta a 18 punti e sabato chiude con il Capulso. Per il Cus la peggiore partita interna disputata finora. Forse le scorie della Coppa Italia si sono fatte sentire fin troppo. Ma non c'è tempo per pensare all'ultima trasferta sul campo del Gubbio per chiudere le terze e respingere l'assalto della Tombesi. Per il team universitario un mese di aprile intenso fatto di campionato ma soprattutto di Final 8 di Coppa Italia il tecnico Marco Sanginario ai nostri microfoni ha parlato anche dell'avventura tricolore. Marco Sanginario allenatore del Cus Molise una partita che sicuramente poteva essere chiusa con un risultato diverso un Cus un po' sottotono. Cosa è mancato mister? Il fatto di dover tornare dalla Coppa Italia da una manifestazione così importante poteva causare un calo di concentrazione e lo ha causato. Non è una giustifica ma è l'unica spiegazione che ci possiamo dare. Hanno vinto benitatamente i ragazzi del giovinazzo a cui vanno fatti veramente i complimenti perché hanno onorato il torneo impegnandosi veramente in maniera incomiabile nonostante non fossero punti importanti per loro. Ritornando sulla Coppa Italia un'esperienza sicuramente da ricordare tralasciando comunque il risultato ricordiamo che avete comunque perso contro quella che si è rivelata poi la vincitrice del torneo tricolore. Qual è stata l'esperienza? Quali sono le sensazioni? Le sensazioni sono senz'altro positive poi affrontare il Napoli all'inizio avevamo un attimo di sussulto quando uscì il nome del Napoli in realtà adesso a Condifatti siamo contenti di aver affrontato una squadra del blasone del Napoli e di averci confrontato con giocatori importanti. Una manifestazione sicuramente organizzata alla perfezione con tantissima qualità tecnica delle squadre non era semplice ritornare qui a Campobasso a giocarci la partita oggi purtroppo non è, ripeto, una giustifica ma dobbiamo da qui, dal secondo tempo diciamo di oggi cercare di partire dove si è vista una maggiore voglia i play-off sono ormai raggiunti dobbiamo cercarli di onorarli al meglio. Ecco, prima dei play-off vi attende una trasferta a Gubbio quali sono gli obiettivi per quest'ultima partita? e poi sui play-off, ecco, quali gli obiettivi anche sui play-off? Allora, Gubbio è una trasferta un po' particolare nel senso che o pensiamo ai play-off o pensiamo a una partita di Gubbio noi abbiamo Turek squalificato Jonathan infortunato Barichello il capitano Di Stefano abbiamo dei problemini per sabato quindi bisogna adesso ragionare un po' sui play-off che cosa ci aspettiamo dei play-off in realtà li giochiamo per vincere ovviamente tutte le partite non ci poniamo obiettivi la società degli obiettivi ce li ha date e sono stati ambientamente raggiunti chiaro che adesso vorremmo ben figurare l'importanza di questa partita quella di Gubbio era blindare il terzo posto che aveva un grosso significato cioè quello di poter giocare in casa il play-off almeno al primo turno e poi ti dava il vantaggio che nel caso di parità non si va ai rigori ma vince la squadra meglio classificata quindi l'importanza di questi tre punti sia quelli di oggi sia eventualmente quelli di Gubbio sono estremamente importanti cercheremo di presentarci al meglio però come ti dicevo tenendo d'occhio poi anche un attimino ai play-off successivi dell'8 maggio e cercando di per quella data di presentarci veramente al completo basket di serie A domani alle ore 19 in programma gara 3 tra Bologna e sesto San Giovanni in palio il pass per la semifinale play-off dove ad attendere c'è già l'umana Rayer Venezia ieri invece Ragusa ha vinto di misura contro Empoli la semifinale quindi sarà Schio contro Ragusa per quanto riguarda il nuoto ancora una volta è stato il centro sportivo M2 ad ospitare un appuntamento su base regionale domenica scorsa in vasca la categoria esordienti per la prima tappa del Molise Swim Cup con il favore della vasca domenica gli atleti dell'M2 sono stati impegnati presso il centro sportivo di Campo di Pietra nella prima tappa Molise Swim Cup manifestazione riservata alla categoria esordienti A e B buone le prestazioni dei tesserati bianco-blu che dopo mesi di allenamento sono potuti tornare in vasca per una gara ufficiale nella categoria B maschi secondo gradino del posto per Filippo Biello che ha chiuso cento rana con il tempo di 1.43 e 9 il crono di 37.7 ha permesso a Filippo Sessa di chiudere al terzo posto i 50 farfalla sul versante femminile nei 50 rana l'M2 prima con Beatrice Orrini crono di 38.2 seguita da Alessandra Sarra che ha chiuso la gara in 44.7 tra gli esordienti A Giuseppe Cantalupo ha vinto il 200 stile libero 2.15 e 5 ed è secondo nei 100 farfalla primo gradino del podio per Edoardo Libertone nel 200 d'orso 2.31 9 il crono e secondo posto nei 200 stile sempre nel 200 d'orso Luigi Pallante ha vinto i 400 misti con il tempo di 5 minuti 37 secondi e 70 centesimi in campo in campo femminile 2 ori per Sofia Orrino rispettivamente nei 100 farfalla 1.14 e 10 e nei 200 stile 2.23 e 60 il suo tempo Maira Margiotta ha primeggiato sia nei 400 misti 5.48 e 30 che nei 100 rana 1.25 e 80 seguita in questa gara dalla compagna di squadra Maria Pia Evangelista ma a proposito della squadra ai nostri microfoni il tecnico Bernardo Dancona se non ci impone nessuno una chiusura noi cerchiamo in tutti i modi con tutti i mezzi di non fermare questa attività sia per il fabbisogno dei bambini che come abbiamo visto anche in precedenza per i più grandi cerchiamo di garantire comunque continuità l'attività agonistica Bernardo tu da allenatore perché è importante il nuoto sin dall'età piccola allora il nuoto è importante per tutti ok saper nuotare penso che sia fondamentale poi nuotare diciamo a livello agonistico sicuramente porta a una formazione di un carattere molto forte e soprattutto i ragazzi attraverso questo gioco imparano davvero tanto ok imparano la sconfitta imparano la vittoria imparano a competere e penso che sia un ottimo trampolino di lancio per la loro vita per ciò che li aspetta obiettivi futuri e programmi futuri il programma è sempre in relazione al al covid diciamo l'attività regionale sembra essere ben programmata e diciamo che vedrà gli atleti impegnati ogni mese con la partecipazione in una gara con la speranza di poter fare anche qualche gara fuori e competere con le altre regioni chiudiamo con la palla a volo maschile l'8 maggio al via la seconda fase del campionato mentre sabato al via la coppa italia si parte con la trasferta di alba adriatica a proposito della squadra ai nostri microfoni il capitano Sulmona vediamo Michele Sulmona capitano dell'Energy Time Cusmolise si è chiusa per voi la regular season una grande vittoria sul Termoli partita non facile però quando avete voluto siete riusciti ad accelerare avete portato a casa i tre punti si abbiamo chiuso questa stagione regolare adesso ci sono i playoff è stata una partita molto combattuta però quando ci sono stati dei punti decisivi ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo chiuso subito il set abbiamo fatto questa vittoria 3 a 0 sul 3 a 0 e abbiamo chiuso subito la partita il campionato per adesso diciamo che è finito però dobbiamo stare sempre attenti perché sono in arrivi playoff e dobbiamo mantenere sempre l'attenzione al massimo e quando riguarda appunto la partita con gli adriatici soprattutto nel terzo set avete avuto una grande reazione loro hanno cercato di scarpar via però siete stati bravi a riprenderli sì ovviamente sul terzo set loro hanno dato il massimo hanno dato tutto quello che avevano noi abbiamo subito recuperato quel piccolo svantaggio che avevamo e abbiamo continuato a lottare per tutto il set e siamo riusciti a chiuderlo vincendo playoff come si dice un po' in tutti gli sport potrebbe essere un campionato a parte nuove motivazioni voi come lo affronterete esatto nonostante il campionato abbiamo vinto tutte le partite i playoff sono una cosa a parte e dobbiamo mantenere la testa nel gioco e lottare su ogni partita ogni partita e fare bene come abbiamo fatto in campionato ovviamente l'attenzione dovrà essere massima per portare a casa questa serie B e quindi l'attenzione dovrà essere altissima serie B che a campo basso manca sia il maschile che a Fimiera un po' di tempo sarebbe un grandissimo risultato per voi per chi ama questo sport ma anche per tutta la regione Molise sì sarebbe un grandissimo risultato una grandissima soddisfazione sia per Campobasso per tutto il Molise sia per noi cercheremo di fare il massimo e come ho detto in precedenza i playoff sono un campionato a parte dobbiamo lottare sempre e fare il nostro dovere lottare su ogni palla su ogni azione su ogni set e fare il nostro gioco bene bene questa era l'ultima notizia del nostro TG Sport grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti